Musica Utilizzare la crema solare è importante quando ci si espone al sole. Una buona regola che tutti conoscono, ma pochi applicano. Secondo quanto emerso dal Congresso Nazionale di Scienze Dermatologiche, 4 italiani su 10 non utilizzano la crema, pur sapendo dei danni che i raggi ultravioletti possono arrecare. L'11% ricorre a prodotti diversi dai filtri solari e il 20% mette la crema solo nei primi giorni di esposizione e solo una volta al giorno. E si sbaglia anche nell'applicare la crema ai bambini, prodotto usato con troppa parsimonia, applicato poche volte nel corso della giornata, mal conservato o non dedicato al fototipo corretto. Gli esperti ricordano che l'80% dei tumori della pelle è legata proprio a scottature solari prese da piccoli. La pelle, infatti, ha una memoria del danno e le conseguenze si pagano anche dopo 30 o 40 anni. Ma sono i giovani i più disattenti. Ecco cosa ne pensano gli italiani intervistati sulle nostre spiagge. Per dire la verità, la proteggo poco, anche se non dovrei. Oggi è il primo giorno che ho messo la crema e siamo a luglio. 14 di protezione? 15. Nessuna. Non la uso perché mi piace abbronzarmi. Sicuramente io vengo così come sono, non me ne metto crema e niente. Nulla. Io non la metto mai la crema, quasi mai. Diciamo che poi la scottatura se ne andava subito, non mi faceva neanche male. Non ci penso, diciamo che è meglio così. Mi do un po' di crema solare prima dell'esposizione. All'inizio 50, poi passa 30. Nessun fattore di protezione, nulla. La pigrizia di non spalmare crema e poi la sabbia, mi dà fastidio. Inizialmente alte, poi diminuisce a seconda della situazione della pelle. Diciamo, inizio con una alta e poi man mano diminuisco. Man mano che la pelle è più forte, diciamo, è più abbronzata, riduco. Nessuna, vengo nelle ore più fresche della giornata e vengo quando il sole non picchia forte. Trenta. Due ore dalle dodici fino alle due e mezza andiamo via, poi torniamo. Io non ne uso protezione, mi sono bruciata una volta nella mia vita e mai più. All'inizio uso protezione 50, poi quando ho un'abbronzatura diciamo più stabile uso quella 20 e di solito vengo magari o nel primo pomeriggio o se no al mattino presso. In tutto l'anno nessuna. Ti stai mai scottando? Parecchie volte, sulle spalle soprattutto. E questo non ti fa pensare di mettere la crema? No, al massimo mi metto un po' più all'ombra dai. In passato usavo la protezione alta perché ho un po' la pelle chiara e ogni tanto la uso ma non spesso. Via libera al sole dunque ma con attenzione e ricordate che per una bella abbronzatura duratura è necessario idratare la pelle anche dopo l'esposizione. Grazie a tutti.